S'iniziativa del sindaco del comune di Ponte Cagnano Faiano Giuseppe Lanzara e dei dirigenti di posta italiana sarà attivo un numero telefonico a cui i residenti potranno rivolgersi in caso di problemi, ritardi, segnalazioni inerenti alla mancata o irregolare ricezione della corrispondenza. Famiglie, aziende e denti potranno infatti chiamare allo 0894068345 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 per denunciare eventuali disagi. Il comune di Ponte Cagnano Faiano e posta italiana lo diffonderanno con una campagna di sensibilizzazione e chiedono la piena collaborazione dei residenti. Consapevole del risultato raggiunto il sindaco Giuseppe Lanzara ha dichiarato rivolgo un personale sincero ringraziamento ai dirigenti e agli impiegati di posta italiana per aver accolto il mio invito a concertare un tavolo di lavoro finalizzato e trovare una soluzione pratica ed immediata ad un problema che da tempo attanaglia la nostra comunità. Il dialogo continuo con enti pubblici e privati, con singoli cittadini e associazioni è la sola strada possibile per creare sinergie ed offrire risposte funzionali e condivise.